Ci occupiamo di sviluppo software a 360 gradi, non abbiamo un contesto di business specifico perché il nostro lavoro è quello di affiancarci ai nostri clienti che operano in qualsiasi settore dalla finanza d'impresa all'automazione industriale all'ambito medicale e affiancarli per aiutarli nella loro evoluzione tecnologica, aiutarli a sviluppare il loro business sfruttando la tecnologia che noi gli mettiamo a disposizione.